Nel Metapontino, dove prosegue la conta dei danni dell'ultima alluvione della scorsa settimana, sentiamo Luigi Di Lauro. L'ennesima catastrofe annunciata non passerà ancora una volta sulle nostre teste. Il Comitato difendiamo le terre ioniche torna operativo dopo l'alluvione che il 7 ottobre scorso ha nuovamente messo in ginocchio il Metapontino e l'area ionica al confine con la Puglia. Gli agricoltori non sono disposti ad aspettare 10 mesi come in occasione del marzo 2011, quando una terribile alluvione provocò oltre 350 milioni di euro di danni al territorio e alle infrastrutture. Il Governo nazionale deve intervenire subito per completare gli interventi già definiti e sostenere le decine e decine di aziende che hanno visto interi raccolti andare distrutti da due ore di pioggia terribile, che si è portata via anche la vita di quattro giovani vittime. Nel pomeriggio i primi incontri informali per rimettere insieme rappresentanti di associazioni e semplici cittadini, il sopralluogo a Serra Marina e poi, da domenica, con molta probabilità, l'apertura di un nuovo campo base, una sorta di centro operativo nel quale raccogliere le istanze degli imprenditori agricoli da rappresentare alla Regione Basilicata per il risarcimento dei danni. Intanto i responsabili del Comitato hanno già inviato richieste di incontri con i vertici regionali per un primo esame della situazione, mentre nei terreni ancora inzuppati dall'acqua continua l'interminabile conta dei danni. Parliamo del memorandum... Grazie a tutti!